Avete diritto a un avvocato? Qualsiasi cosa che direte potrà essere usata contro di voi in un tribunale? Innanzitutto chiediamo il permesso di mettere questo video sul sito del Ciliciano YouPorn YouPorn Voi siete nuovi, lo spirito è quello che fa conoscere ai nostri tifosi i nuovi ragazzi che indossano la nostra maglia Anche gli anziani, quello a sinistra Iniziamo con una domanda facile Il nome e il ruolo che ricoprete Andiamo Piazzi, terzino sinistro Il finale è Pugliese Andrei Martino attaccati Giusto per mettervi al vostro agio Subito una domanda così banale Spiegateci il teorema di Pitagora No Se ne fai Pitagora sia con Caterno per Caterno 3-14 Si scherzava Allora Diteci un po' le impressioni della nostra realtà Voi che venite da parte dell'orcia Parto io? Sì Sono più vecchio Una grande realtà Un paese Credo mette l'anima e il cuore nella squadra Si vede Si vede dagli allenamenti Si vede la domenica Si vede sempre Si vede lo spirito Di tutti noi Lo spirito vostro Che poi si ripercuote anche nella squadra Fondamentalmente è questo Una piccola grande realtà Grazie Grazie Probabilmente è d'accordo con Icapo E ci chiederei solo Che essendo un paese Che non è enorme Però tutte le persone che ci sono Vengono al campo Questo fa piacere E poi pur essendo Infatti i ladri ballano la domenica Però pur essendo un posto piccolo Seppoltanto unito E anche molto organizzato E i risultati si vedono sul campo E sull'entoria Di Giuseppe Allora Lasciamo Lasciamo da parte un po' la diplomazia Ditemi il giocatore più scarso che avete in squadra Federico Burguglia lo giova di sinistro Nooo No questa è la ruffianata Te lo so Ti avrei scritto un'altra No Vabbè 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 Tocca a te La verità è Grazie 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 Più scarso Più scarso Donini Perché potrebbe dare 5.000 E dà mezzo Grazie Tanto non si sente no? Un pregio, un difetto del mister Un difetto che secondo me è troppo buono E in un gruppo, in un gruppo, uno spariaccio, una botte del nostro, un coreaggio che migliora domenica dopo domenica Il difetto secondo me è troppo buono Il difetto di essere un po' buono non è vero Perché se hai a che fare con persone intelligenti vuol dire che siamo una squadra di stupidi E il difetto di essere un po' buono non è vero E il difetto secondo me è che durante la domenica, durante la partita, ci sta troppo armo Io, a questo simbricornio Ma le che zelle partiva Non è vero E non è vero Nooo 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 Non è vero Veloce 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 Allora, io ho un difetto che non mi mette in media, un difetto più grosso è che non mi mette in media Un pregio è che riesci ad adattarsi persona per persona e riuscire a tirare fuori il meglio dal 2010 Senza quello di entrare nel merito è perché la squadra la fa l'allenatore, però secondo voi, squadra per vicio si cambia? Dipende dall'avversario D'altro siamo più forti perché siamo sempre scoglifiati Chiudiamo alla Marzullo, fatemi una domanda e datemi una risposta Qualsiasi argomento, potete parlare anche dell'Iran Iniziamo la domanda Ah, da me? Sì, c'è la domanda Se devo fare una domanda e darmi una risposta La Marzullo, dai Eeeh, faccio una domanda È difficile avere questa Faccio vedere 20 volte, eh? No Te la fai la passata al mento, sì Prezzatina, tutti, finora è prezzatina, vai Tante volte anche se ti si passa E tu si riusciva a fare un po' di sinistra No, è stato facile Io invece se riusciremo a fare tutti i tempi da andata Dio di sì perché credo in una squadra che può migliorare ancora E non avete visto niente Se vogliamo stiamo direttamente più forti dell'altro E lo sapete E' un'altra cosa E' un'altra cosa Grazie Per questa sera la prendiamo qui Però vi ricordo che la prossima volta saranno ancora più peggio Le domande saranno ancora più forti Grazie ragazzi